Ero tutta storta perché facevo la rincorsa al contrario, di solito è destro-sinistro-destro, io facevo sinistro-destro-sinistro, facevo la rincorsa da mancino, però mi piaceva giocare. Guarda, è stata una grande passione che me la sono goduta fino a quando ho cominciato a farmi la borsa e questa passione non c'era più, quindi io come ho iniziato, come me la sono vissuta, ma come tuttora faccio le cose e quando io non mi sono più divertita io ho attaccato le ginocchiene al chiodo, però quando giocavo, giocavo. Ascolta, ma una cosa voglio sapere, ma ti è iniziato a nove anni, ma come ti è venuto in mente di tutti gli sport? La palla a volo? A nove anni ero un'ottanta quasi, o era basket, no io guarda... Ma te ne avevi innanzitutto? No, qua c'avevo vent'anni, vent'anni, 97, 21, andavo per i 21, guarda, sì vabbè ma già venivo da 4-5 anni di Serie A, quindi ero abbastanza... Questa era una grande squadra, c'era Kiba Fips che vedi nelle immagini che è stata un atleta per il campionato italiano che ha vinto di tutto, però c'era una Sesti, una Giglioli, una Zambelli, qua si sta parlando di pre-storia fa ma di nomi abbastanza importanti. Ma te fin da piccola hai avuto sempre questo ruolo? Io fin da piccola, sì ma guarda non mi ricordo all'inizio, no perché ti fanno fare tutto, e poi sì quasi subito perché hanno puntato, forse caratterialmente ero molto palleggiatore, perché io non li dico con nessuno, io sono calma, quindi nella squadra il palleggiatore è quella persona che deve stare sempre sul pezzo. E' quando c'è la ricezione, quindi quando c'è la battuta dall'altra parte e c'è il palleggiatore che chiama gli schemi e dall'altra parte quando uno batte chiamano, si vede che stanno sotto rete, segnano la zona che copriranno a muro, perché poi la pallavola è tutto un incastro, un intreccio e veramente è una musica che ogni nota deve stare al proprio posto. Sono delle immagini che mi riportano a una vita fa ma che poi non tanto, perché avevo vent'anni, quindi vent'anni fa, ventun'anni fa, però è una parentesi che la vedo veramente non sembro io, perché tante cose poi succedono, è stata una mia scelta lasciare il campo da gioco per poi percorrere altre strade. Questa strada della pallavolo è stata intensa, sono stati, guarda, 16 anni, perché ho iniziato molto molto presto e hanno visto delle qualità in me, hanno lavorato e poi ho abbastanza bruciato diverse tappe, perché poi stavo in Serie A che avevo 15 anni. Innanzitutto ora stiamo parlando delle immagini. Queste immagini sono che era l'anno 97-98 che io sono andata a giocare a Napoli, qua stiamo al palazzetto di Barra. Innanzitutto che ruolo avevi, Fede? Allora qua io, no, il mio ruolo è stato sempre palleggiatore, guarda, anche se la mia indole dello schiacciatore è stata sempre dentro di me, perché mi piace. Che numero avevi della maglia, scusa? C'ho sempre avuto il 5, il 5, eccola. È stato il mio numero da sempre, ci sono state solamente delle maglie con il numero 7, che poi è stata la maglia della Nazionale, e poi del numero 10, però il 5 era il mio numero. Grazie. 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 Grazie.